Siamo usciti dall'aula perché pensiamo che il momento della tranquillità e il momento del subire passivamente le decisioni di questa maggioranza sia finito. Abbiamo subito un'umiliazione da parte del governo per quanto riguarda il ruolo dei senatori, abbiamo subito il fatto che questa riforma costituzionale tolga il diritto di voto agli italiani, abbiamo subito tutta una serie di nuove direttive per quanto riguarda le autonomie che toglieranno ulteriori poteri alle regioni. In questo momento la proposta di creare un Presidente della Repubblica dipendente da questo Presidente del Consiglio lo riteniamo un affronto e uno smacco nei confronti della Costituzione, che siamo ancora convinti che sia il più alto modo di democrazia che ci sia in Italia. Stanno ammazzando la democrazia e di conseguenza abbiamo deciso ancora una volta di non essere complici di Renzi, di Verdini, di Berlusconi e del signor Tosi.